Musica Eleonora vive a Bussoleno, lavora a Torino tutti i giorni, come si sposta? Con la mia macchina Laura vive a Condove e tutti i giorni viaggia per Torino, come sono i suoi spostamenti? Auto o piedi, casa stazione, treno e metro Eleonora vive a Caselette e tutti i giorni lavora a Torino, come sono i suoi spostamenti? I miei spostamenti sono con la macchina e poi arrivo alla metropolitana, alcune volte invece prendo il treno e arrivo al lavoro Maria Luisa abita dal mese e tutti i giorni viene a Torino per lavoro, come si muove? Allora prendo l'auto fino ad Avigliana, alla stazione, lascio l'auto al parcheggio, lì vicino, prendo il treno e poi tre fermate di metro e sono qui Conosce Carpooling? Sì, certo, come definizione generale Sì, ho sentito appunto parlare di questo progetto che è molto interessante e molto positivo, trovo Sì, conosco il Carpooling, è anche una buona pratica nel senso di condivisione dell'auto con altre persone e sinceramente sarei intenzionata Ho sentito dire Ecco, volevo proprio sapere, sarebbe disponibile a salire su macchine di altri o a condurre sulla sua? Ma anche sulla mia, nel senso che sarei insomma anche così favorevole a condividerla con altri gruppi guidando io Non portare altri io perché appunto ho dei limiti di spostamenti però con altri sì, senza problemi Per come è organizzata diciamo la mia vita e tutto quanto avrei dei problemi a muovermi sia usando la mia auto che è quella di qualcun altro? Direi di sì, ho un po' di problemi diciamo di orario perché ho delle esigenze familiari per cui devo rispettare determinati momenti Cosa pensa del fatto che la bassa Val di Susa abbia aderito al progetto del Carpooling? Considerato l'intasamento delle strade che portano a Torino mi sembra una cosa molto interessante, ottima, senz'altro una buona iniziativa Ma io penso che sia un'iniziativa interessante anche perché effettivamente è una possibilità che si dà al cittadino di scelta e poi soprattutto favorisce anche l'intermodalità C'è la possibilità di arrivare nei parcheggi, cambiare mezzi, ridurre i costi di carburante, insomma è una buona sperimentazione quindi sono contenta È una valle molto gettonata e trafficata, di conseguenza mi sembra una cosa molto valida questa soluzione, spero che vada avanti come progetto sicuramente Un ottimo segnale di apertura a questo nuovo tipo di esperienze e sono molto felice che gli amministratori siano stati così lungimiranti e così aperti a queste nuove possibilità Andrea Archina, sindaco di Avigliana, perché la bassa Valle Susa ha aderito convintamente alla sperimentazione del carpooling? Perché sicuramente è un crocevia importante, insomma è interessato dall'incrocio di due statali, l'autostrada tra l'altro da due anni a questa parte con tre uscite autostradali la ferrovia quindi è sicuramente uno snodo importante che mette in collegamento oltre che la Val di Susa di cui appunto il comune porta anche la Val Sangone e la Val Messa Fiorenza Arisio è l'assessore all'ambiente del comune di Avigliana, secondo lei assessore i cittadini di Avigliana più in generale la popolazione della bassa Valle sarebbe pronta per un salto di mentalità con l'utilizzo del carpooling? Allora penso che i ragazzi giovani siano molto più motivati in questo senso, noi abbiamo effettivamente una parte della popolazione che si sposta verso Torino quotidianamente o per lavoro o per studio ma mentre le persone adulte hanno tutta una serie di problematiche legate anche alla gestione della famiglia, dover andare a accompagnare i bambini a scuola, riprenderli la sera e tutta una serie di altre incombenze per i ragazzi che invece vanno a Torino per studiare è forse più semplice riuscire a mettersi assieme e condividere anche gli spostamenti potremmo anche fare una serie di azioni all'interno delle scuole e cercare di convincere la popolazione più giovane e più libera da incombenze di altro tipo Cosa dicono gli ultimi dati sulla mobilità, sull'ambiente e sulla necessità di intervenire? I dati sono confortanti dal punto di vista ambientale perché Avigliana è stata sempre protagonista anche in modo lungimirante di una serie di politiche che hanno puntato molto sull'ambiente Certo sulla mobilità c'è anche molto da fare anche perché da uno studio che abbiamo commissionato insieme al comune di Almese quello che è rilevante è che i maggiori spostamenti che avvengono in questa zona sono micro spostamenti cioè le persone utilizzano soprattutto l'auto per muoversi all'interno della città o comunque nei comuni limitrofi questo fa sì che in realtà abbiamo molte auto in circolazione Iniziative come questa del carpooling, del car sharing sono una soluzione? Sicuramente sì perché sappiamo tutti la congestione che c'è appunto andando verso i centri metropolitani e quindi diminuire fin dalla provincia il numero di persone che accede a Torino in auto direi che è essenziale proprio per diminuire traffico, inquinamento e anche come dire per la salute psicologica delle persone che impazziscono la mattina per riuscire a entrare in città Carmelo Romeo è il comandante dei vigili urbani di Avigliana un comune avanti sui temi della mobilità sostenibile? Beh direi che si può dire proprio di sì abbiamo iniziato dal 2007 ad affrontare in modo, c'è questo tema con un grosso impegno che oggi ha portato dei risultati direi ottimi siamo ad esempio per quanto riguarda il piedibus a sette linee gestite dal comune di Avigliana più una linea autogestita è veramente un ottimo risultato vedere ragazzini già di 3, 4, 5 anni che camminano con i nostri gilet e con la progettazione anche grazie alla città metropolitana sulle nostre vie Ecco comandante, i ragazzini sono sensibili gli adulti ancora non completamente Avigliana come altri comuni della bassa valle è aderito alla sperimentazione sul carpooling ma secondo lei gli abitanti di questa valle sono pronti al salto di mentalità sul carpooling? Secondo me bisogna ancora lavorarci molto perché tutti ne parlano ma poi quando abbiamo visto anche con la zona industriale qua vicino a noi inizialmente tutti davano delle adesioni ma quando è stato poi il momento di partire non riescono a far collimare mai gli orari non si riesce mai a far sì che gli orari aziendali permettano a più persone di trovarsi insieme quindi bisogna lavorare prima sulle persone per riuscire a convincerle e poi avere la forza anche di poter agire sulle aziende perché se tutti fanno degli orari diversificati anche all'interno della stessa azienda diventa complicato